Aaaaaah, è una gran sorpresa aver trovato... giustamente Allora, quindi Lo prendo? Quando mai Questo è un pesante, finalmente ce l'ho fatta Niente Tava fatto l'attacco a zona, ragazzi Lo so, lo so, penserete... un cretino Cioè uno di vita e tira l'attacco a zona con l'Eylander Ma l'attacco a zona, ragazzi, è qualcosa di speciale Ho un posto davvero unico nel mio cuore Niente, io sto insistentemente... Beh, no ma... Cioè, fanno di più di attacchi a zona, guarda Vai tranquillo, tanto... Che culo, ragazzi Che palle sto Kensei, ragazzi Fa solo attacco a zona e leggero alto E io non faccio Perry, perché ovviamente sono una sega Ma adesso lo facciamo È solo che è veramente un attacco pesante Quindi... Tanta fatica Con il rischio di essere colpiti Tanto vale tenere la guardia sulla destra E bloccare il colpo e basta Ma... Però adesso vediamo, vediamo Se mi... Esattamente quello che immaginavo sarebbe successo Esattamente quello che immaginavo sarebbe successo Vabbè, non ce l'ho fatta In questo caso sono stato una sega io Avete visto, ragazzi? Adattarsi Vediamo se il nostro avversario adesso si controadapterà Poi con l'Eylander è sempre così, ovviamente Vabbè, obiettivamente è difficilissimo anche per me Tornare a giocare a un personaggio Che comunque è uno dei miei preferiti Però... È complesso tornare a usare un personaggio così Ah, c'ha pure l'emotte, bella Wow Vabbè, me l'aspettavo a sto punto No! Non volevo fare quello, ragazzi, giuro Light Crushing counter strike for the win Ci stava Gigi Oh, abbiamo... Bimo di nuovo È un ragazzo che ho combattuto Che aveva il razziatore Nella video del... Non so cosa ho fatto Ho sbagliato Eh, Max Punish Tosta Madonna, tutto quel danno Ma pensavo fossero almeno 15 di vita Infatti non mi ero preoccupato troppo del tuo stab Invece avrei dovuto Va bene Sono dieci danni, forse Erano otto Forse erano otto Un ricordo fossero otto Devo dire la verità Buono Balperry Cazzo, il gladiatore ci stupra male Ragazzi È bravo questo Bimo, ragazzi Mi piace Questo Bimo È simpatico Perché gioca bene Però il gladiatore Effettivamente Forse devo giocare Molto più passivo Ma Beh, proviamo Dai, vediamo Eh, il gladiatore È tosto Controli l'Eylander Sì C'è poco da fare Ah, perché ho provato Perché ho tentato a leggero, ragazzi Non lo so Ah, cazzo No No Gigi Ci sta Ci sta Ci sta Jormungender Di notorietà Interessante Non se ne trovano tanti Speriamo di non prendere calci Come contro quel Bimo Perché mi ha davvero Ah, giustamente Mi ha veramente uber stuprato Bimo, ragazzi È stato Molto, molto bravo Cosa Cosa accade Beh, però poteva essere un crash incanto Tre strike Quello lì Vabbè Va bene Ok No, c'è il pesce in testa Che brutto Perché era per l'evento No, se non sbaglio D'evento 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 Flawless Ovviamente ho sbagliato la punizione da Perry Ragazzi Cioè veramente È il terzo Secondo Terza Terza partita Dopo Mesi Che faccio con l'Eylander Dall'ultimo video Che era uscito Proprio su l'Eylander Eh, non Cioè davvero Non pretendete niente da me Vi prego Quanto Perry però Quello Boh Faccio un po' di backup Non saprei neanche Eh, così Oui, giro Rotto tutto Vabbè Non so Sono stato bravissimo Sono stato un pro Un prosciutto Un prosciutto Cazzo Ma non ho vinto Siamo due a uno Certo Che il signor Bimo Mi ha Mi ha violentato Nelle mie prività E Obiettivamente Sono rimasto molto male Quindi Cosa Perché da neutro Cosa ho fatto Perché ho fatto Un coso da neutro Niente Questi Sono i round In cui Io faccio un leggero Lui fa un attacco a zona E E io muoio Ma Dopo il round Appena fatto Vale tutto Perché sono stato un vero Un vero pro Un vero fico Non so Non so cosa sia successo Pro moralmente Ho vinto Il video con le lander E' andato Madonna che casino E' andato peggio degli altri Ma Ci sta Adesso Il prossimo sarà Non ricordo Who was fun Ecco Si è anche divertito Percilla 99 Complimenti Quindi Voi direste Eh Dagli il rematch No Perché devo cambiare Personaggio E bisogna fare l'ultimo Che Lo yorm E vai di yorm Che Grazie a tutti.